Grazie a tutti. Di recente è successa una cosa, la vorrei raccontare in modo carino, su richiesta nostra e WISP che come voi sapete sediamo nell'esecutivo e nel coordinamento nazionale del forum del terzo settore insieme ad altri quattro enti in quel caso abbiamo sollecitato un incontro che poi è avvenuto qualche giorno fa, eravamo presenti il sottoscritto e Tiziano per la WISP, dopo anche Damiano Lembo e Gianni Gallo che da breve arriveranno ci daranno anche loro il loro contributo. E intanto che eravamo lì a chiacchierare con portavoce Claudio Fiaschi che ieri è stata qua e direttore nazionale del forum Maurizio Mumolo, c'era anche Bruno Molea dell'Aix e a un certo punto è arrivato Gabriele e giustamente appena si è seduto ha provato a dettare la linea perché è corretto che si è usi dalla serie. Io non sono d'accordo che lo sport, soprattutto quello sociale, debba star fuori dalla riforma del terzo settore. Io mi sono permesso, scusandomi di interrompere, ho detto Gabriele scusa guarda che qui ci sono gli enti che vogliono esattamente stare dentro. Quindi così abbiamo cominciato, poi lo ringrazio per la disponibilità anche di quel giorno e per essere venuto qui da noi a dare il suo contributo. Grazie Gabriele, a te la parola. Grazie Vincenzo, da quella chiacchierata iniziale poi abbiamo avviato un percorso e proprio qualche giorno dopo c'è stato un importante incontro al Salone d'Onore del CONI, qui vedo anche l'amico Andrea Mancino che è il responsabile della commissione fiscale del CONI e abbiamo avuto un incontro che probabilmente sarà l'inizio di un percorso importante di dialogo per mettere insieme due mondi che inevitabilmente sono chiamati a dialogare ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e quindi sono il registro CONI, il registro unico nazionale del terzo settore. Ci sono delle parole chiave che con Vincenzo abbiamo condiviso nel corso anche delle nostre chiacchierate che sono emerse anche dagli interventi che ho ascoltato qui. Quando si parla di sport si parla di responsabilità, di opportunità, qualcuno ha richiamato ambiente, sport, territorio, inclusione sociale. Io peraltro cresco in una struttura sportiva quindi sono un tesserato e ex tecnico della FIPAB, nonché sono tesserato anche WISP perché io ho fatto pure dei tornei peraltro in gioventù WISP, però questo evoca un po' il concetto di sport che trasversalmente si inserisce nel contesto del terzo settore. All'articolo 5 del codice del terzo settore troviamo il richiamo all'attività sportiva direttantistica. Abbiamo avuto modo di ragionare anche su questa definizione, che cosa significa attività sportiva direttantistica e in che misura si differenzia rispetto all'attività sportiva direttantistica che oggi troviamo riconosciuta all'interno del registro CONI. Sono due percorsi diversi che però non sono rette parallele, sono rette che possono incrociarsi, possono fare un percorso comune nel rispetto dei rispettivi ruoli, però la questione fondamentale che mi sono posto anche nel corso dell'incontro al CONI si lega in una frase sport è terzo settore oppure sport è terzo settore, l'ho detto anche l'altro giorno, tutto ruota intorno ad un accento. Secondo me questo accento va messo in maniera convinta su questa frase, lo sport è anche terzo settore, lo sport è inclusione sociale si inserisce in un mondo, quello del terzo settore, che forse in questa fase meritava finalmente un po' di attenzione. Immaginatevi un mondo con 350.000 enti, più di un milione di lavoratori, 5 milioni e mezzo di volontari iscritti ma alla fine sono anche 8 perché non tutti sono iscritti formalmente, mancava di una definizione. Guardate che quando si arriva quasi a toccare il 5% del prodotto interno lordo, per un mondo che muove una parte dell'economia del paese non avere neanche una definizione giuridica significava probabilmente mettere da parte qualcosa che invece nel paese sotto il profilo del modello culturale ha un ruolo importante e la vera sfida della riforma del terzo settore all'interno della quale si muove il mondo sportivo è una sfida culturale, cominciare a cambiare anche la definizione del terzo settore e cominciare a capire che l'attività dei tanti volontari legata anche agli enti di promozione sportiva ha un valore anche se non è misurata ancora dal punto di vista economico, il lavoro che si fa di inclusione sociale spesso non viene valorizzato perché a differenza di altri ambiti non è misurato nel sistema economico con la riforma del terzo settore cominciamo a dare un valore anche all'azione di inclusione sociale, alla promozione sociale attraverso quello che si chiama valutazione di impatto sociale non è detto che se il volontario non riceve una valorizzazione valga meno quello che fa rispetto a tanti altri mondi partiamo da questo, anche da una frase che a me piace dirla spesso perché evoca un po' il modello che lavoro fai? Lavoro nel terzo settore ma perché non hai trovato un lavoro? questa è la classica frase che si sente dire nel terzo settore e guardate proviamo a dire che tutto questo mondo che comincia a essere un mondo numeroso ha bisogno di riconoscimento, di dignità e di valorizzazione e si parte con la riforma da questo aspetto la riforma da una definizione di terzo settore ora usciamo da questa stanza e proviamo a parlare con l'uomo della strada e chiediamogli cos'è il terzo settore fa difficoltà a capirlo ma sta sulle nostre gambe la possibilità di raccontare che cos'è il terzo settore un mondo eterogeneo abituato finora ad una legislazione settoriale ad una disciplina particolare anziché alla composizione di un modello di sistema con regole valide per tutti perché altrimenti all'interno di questo meccanismo così frastagliato si insinuano realtà che hanno obiettivi diversi rispetto alla promozione sociale e rispetto all'impegno sociale per le colpe di pochi ci rimette la reputazione di un intero sistema e questo non è giusto e allora partire dalle regole partire dalla riforma come insieme di regole unitarie rivolte al mondo non solo del terzo settore ma a tutti coloro che intendono intraprendere un percorso di attività di interesse generale i pilastri sono due la sussidiarietà e la solidarietà la sussidiarietà significa che questi 350.000 enti ciascuno importante per l'attività di interesse generale che svolge si sostituisce allo Stato per svolgere la propria attività usando delle risorse pubbliche per la riforma del terzo settore su 190 milioni di euro 110 circa sono finiti proprio per le misure fiscali indirizzate e di sostegno indirizzate agli enti del terzo settore e si cominciano a superare alcuni steccati culturali è stato importante il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella l'ultimo dell'anno che finalmente ha parlato di terzo settore non so se notate che c'è un cambiamento nel sistema io mi ricordo facevamo gli interventi i convegni sul terzo settore eravamo in quattro, tre volontari e uno che spesso aveva sbagliato stanza perché è difficile raccontare il terzo settore oggi le cose sono completamente cambiate un Presidente della Repubblica che cita il terzo settore l'ultimo dell'anno una riforma con degli investimenti importanti addirittura il Corriere della Sera una delle testate più importanti dedica un inserto settimanale che si chiama Buone Notizie quindi probabilmente nel modello culturale sta cambiando qualcosa ma quella sera il Presidente Mattarella ha sottolineato un dato e cioè la parola non profit talvolta crea qualche equivoco di fondo non profit significa che gli enti non si mettono i soldi in tasca che tutto quello che ricevono lo reinvestono nell'attività di interesse generale questo è un concetto che va sottolineato perché pure qui qualcuno ogni tanto ha la memoria corta non profit vuol dire che non ti metti i soldi in tasca ma non vuol dire che non puoi svolgere attività commerciale un po' di attività commerciale si può svolgere è lecito, non c'è niente di male si supera uno steccato culturale per cui un ente non profit non può svolgere attività commerciale è sbagliato perché? perché comunque quel poco di attività commerciale che viene svolta serve per finanziare l'attività di interesse generale non per fare le settimane bianche e guardate che dietro questo modello ci sono state delle preclusioni legislative che hanno contribuito a non sviluppare un comparto importante del sistema terzo settore vi faccio l'esempio l'impresa sociale che oggi si può accostare anche il modello della società sportiva direttantistica per esempio il modello impresa sociale, la parola impresa entra nel terzo settore e finora ci stava comunque il modello impresa sociale però giustamente l'imprenditore sociale doveva investire tutti gli utili nell'attività di interesse generale ma veniva tassato come se fosse una multinazionale allora giustamente l'imprenditore sociale diceva beh allora un attimo scelgo un'altra strada siccome lo dico sempre nessuno è filantropo verso il fisco si sceglie una strada tra quelle previste dal sistema che può in qualche modo agevolarmi con la riforma del terzo settore c'è una soluzione anche fiscale l'imprenditore sociale è obbligato ad investire tutto nell'attività di interesse generale ovviamente non viene tassato perché c'è una funzione sociale importante alla stessa stregua rispetto a quello che avviene per gli altri enti con alcuni punti che vanno smarcati proprio nell'ottica dell'entrata in vigore del nuovo registro unico nazionale del terzo settore e questo è un tema che coinvolge tutti gli enti e di fronte a una riforma spesso una riforma delle emozioni perché da un lato c'è paura c'è disorientamento perché veniamo bombardati da informazioni sulla riforma del terzo settore però dall'altra io dico insieme alla paura di affrontare nuove regole ci deve essere anche il coraggio di saper affrontare un nuovo sistema fatto di regole che valorizza però chi svolge attività di interesse generale distingue chi veramente ha questo obiettivo rispetto a chi ha altre finalità e questo è un aspetto importante nel nuovo registro unico nazionale del terzo settore e leggendolo vi invito ad entrare nel merito a cominciare gradualmente ad entrare nell'ottica della riforma perché guardate la riforma del terzo settore non è la riforma degli adeguamenti statutari perché poi alla fine si parla solo di quello non è la riforma degli adeguamenti statutari la riforma va letta anche in funzione delle potenzialità con Vincenzo ne abbiamo parlato più volte le potenzialità della riforma sono legate ad una parola che avete già citato le opportunità e cominciamo a capire oggi quali sono le opportunità associabili alle realtà in cui viviamo a realtà che svolgono un ruolo sociale un ruolo di polmone sociale importante sui territori perché da un lato il registro unico nazionale del terzo settore finalmente si compone di tante sezioni che sono distinte sulla base del modello organizzativo oggi il terzo settore è fatto da tante realtà diverse tra loro tra queste il modello Ollus che raccoglie insieme le piccole organizzazioni di volontariato e le grandi cooperative sociali con migliaia di dipendenti probabilmente non sono la stessa cosa la riforma del terzo settore le distingue le organizzazioni di volontariato si collocano in una sezione ad hoc le cooperative sociali diventano finalmente imprese sociali perché giustamente è un'attività produttiva si distinguono i piani vengono distinte anche le misure fiscali e la Ollus non la troverete nelle sezioni del registro perché? perché è una misura fiscale non è un modello organizzativo ed è giusto che gli enti del terzo settore vengano disciplinati sulla base del modello organizzativo perché in funzione del modello organizzativo si misurano le esigenze reali dell'associazionismo e del mondo più strutturato quello delle fondazioni e scegliere la sezione più adeguata significa cogliere alcune opportunità tra queste la sezione delle associazioni di promozione sociale è una sezione che avrà un ruolo importante e so che molte realtà che fanno riferimento alla WISP guardano a questo tipo di modello ma cominciamo anche qui ad approfondire il concetto legato a cosa significa iscriversi nel registro unico del terzo settore ci sono delle domande ricorrenti che arrivano intanto partirà questo registro unico nazionale del terzo settore quando partirà ma ci sono delle proroghe poi c'è la diffidenza fisiologica nei confronti di tutto ciò che attiene alla legislazione si dice spesso, sento dire, ma mancano c'è stata la riforma ma mancano i decreti mancano tutta una serie di cose io vorrei dirvi attenti perché voi siete operatori del terzo settore voi non state discorrendo in via generica della riforma del terzo settore voi siete i portatori di responsabilità del terzo settore e ci dobbiamo dire le cose con chiarezza il registro unico nazionale del terzo settore a dispetto di quello che si dice sento leggere, che leggo da qualche parte partirà, è inevitabile l'ha detto anche il direttore generale del ministero del lavoro l'altro giorno al consiglio nazionale abbiamo incontrato anche Union Camere che è la struttura che sta gestendo la creazione del registro unico nazionale del terzo settore c'è stata una tempistica che è stata riportata dal direttore generale ad ottobre partirà una prima parte del decreto e nei primi mesi del prossimo anno ci sarà il trasferimento automatico di alcuni registri quindi verranno meno i registri regionali i registri delle prefetture l'anagrafe delle Ollus si creerà un unico registro anche perché non so voi però a dialogare con regioni e prefetture di territori diversi significa parlare lingue completamente diverse e questo non è una buona cosa insieme al fatto che se c'è un'associazione che vuole acquisire la personalità giuridica per responsabilizzare anche il ruolo dei rappresentanti legali oggi deve attendere tanto tempo e fare un percorso molto lungo con la riforma si può ottenere la personalità giuridica che vi invito a valutare con attenzione in alcuni casi specialmente quando i numeri sono importanti iscrivendosi nel registro significa evitare che il rappresentante legale dell'ente oltre ad investire il proprio tempo libero investa pure il proprio patrimonio a fronte di eventuali problemi o criticità questa è la caratteristica del registro che partirà quindi nei primi mesi e entro i primi mesi del prossimo anno già dobbiamo aver svolto delle valutazioni puntuali rispetto a chi siamo nell'ambito della riforma del terzo settore queste valutazioni dovranno essere svolte in questo periodo per gli enti più strutturati si potranno apportare già delle modifiche in modo tale che quando sarà operativo il registro già ci sarà la possibilità di entrare all'interno della nuova realtà per gli enti meno strutturati ci sarà un trasferimento automatico non ci saranno delle file di fronte al Ministero del Lavoro per iscriversi nel nuovo registro chi è iscritto già nelle sezioni APS e ODV finirà in automatico nel nuovo registro ci sarà proprio un trasferimento automatico il Ministero del Lavoro farà un controllo se c'è qualcosa che non va manderà una comunicazione e dirà devi fare alcune piccole modifiche ma io vi invito a fare una riflessione non solo sulle modifiche formali perché qui non è tanto il problema di scrivere l'acronimo ente del terzo settore anziché soltanto l'acronimo APS ma cominciare a valutare tra le varie opportunità alcune inserite nella riforma legate alla nuova declinazione per esempio delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale attività che possono avere una caratterizzazione commerciale sono attività che in qualche modo si chiamano connesse con la riforma del terzo settore verrà data una definizione unica rispetto a queste attività e la connessione di cui si parla viene valutata solo con un riferimento di carattere pratico puoi svolgere qualsiasi attività la connessione è legata al fatto che tutto ciò che ricavi da quelle attività lo devi reinvestire nell'attività di interesse generale non ti faccio una valutazione in merito alla tipologia di attività ti dico solo che l'attività connessa quella commerciale da cui puoi ricavare alcune entrate la devi mantenere all'interno di alcuni limiti giustamente perché ovviamente il percorso principale legato all'investimento più importante si lega proprio all'attività di interesse generale ci saranno delle misure fiscali che entreranno in vigore gradualmente per arrivare a questo ci saranno delle misure che sostituiranno per chi si iscrive nel registro del terzo settore alcune disposizioni che oggi sono inserite nella cosiddetta 398 immagino che sia una disciplina che in questo contesto conosciate benissimo bisogna cominciare a equiparare vantaggi e svantaggi lo dico sempre non esiste una risposta valida per tutte le stagioni molte realtà che lavorano solo all'interno del contesto CONI con sponsorizzazioni importanti probabilmente sceglieranno di restare fuori dal registro unico nazionale del terzo settore ma tutti coloro che svolgono attività magari non riconosciute dal CONI oppure attività ibride quindi tutte quelle realtà che svolgono sia attività riconosciute dal CONI sia attività non riconosciute dal CONI dovranno valutare con attenzione l'ingresso nel registro unico nazionale del terzo settore proprio perché con le misure fiscali del terzo settore non c'è una distinzione tra attività specifica riconosciuta dal CONI e non riconosciuta tutte vengono messe all'interno dello stesso schema quindi se giochi a brigio, giochi a burraco di fatto si farà una valutazione rispetto alla tipologia di attività se svolgi un'attività, un torneo FIPAV ufficiale accanto a questo fai anche un'attività di promozione sociale diversa sempre di matrice sportiva, comunque all'interno del terzo settore quello è un unicum, viene valutato in misura unitaria bisognerà poi cominciare a smarcare anche alcune questioni di fondo legate in particolare ai compensi agli sportivi abbiamo avviato un confronto anche su questo aspetto questo è un tema molto molto importante perché giustamente moltissime realtà utilizzano questo tipo di strumento io l'ho detto più volte, l'ho detto già qualche mese fa sulle pagine del Sole 24 Ore a mio avviso le associazioni sportive direttantistiche possono anche nel momento in cui si iscrivono nel registro unico nazionale del terzo settore continuare ad applicare quel tipo di legislazione quindi applicare le misure di favore in termini di defiscalizzazione e decontribuzione previste per i compensi agli sportivi perché sono disposizioni che non stanno nella 398 non stanno all'interno di disposizioni specifiche ma stanno all'interno del testo unico delle imposte sui redditi per gli amanti della cabala sono gli articoli 67 e 69 poi ci giochiamo un ambo però è evidente che stanno in un contesto legislativo completamente diverso e quello sarà un punto chiave su cui si dovrà aprire un confronto perché è giusto cominciare a tranquillizzare gli enti che finora magari hanno svolto attività di promozione sociale, attività sportiva hanno qualche entrata di carattere commerciale hanno le quote associative e insieme a questo pagano anche i collaboratori grazie a quella disposizione di favore disposizione di favore su cui si dovrà aprire una riflessione specialmente con riferimento a ciò che va sopra il tetto dei 10.000 euro nell'esigenza di non concepire quella misura come forma di precariato ma come forma di ausilio per l'ente del terzo settore per quei collaboratori che svolgono un'attività importante di sostegno a queste realtà probabilmente e lo dico spesso con l'amico Andrea Mancino il fatto che ci ritroviamo spesso e lui in convegni su questo tema vuol dire che probabilmente terzo settore e sport legato al CONI stanno cominciando a dialogare e finalmente direi è ora di cominciare a scrivere qualcosa di più puntuale nel raccordo tra questi due registri per dare risposte precise e puntuali oggi rispetto a tutti gli enti in particolare le associazioni di promozione sociale che chiedono l'UMI sull'ingresso nel terzo settore per chiudere vi dico che l'unico decreto cui occorre prestare attenzione a dispetto di quello che si dice che mancano i decreti il decreto che serve è quello di operatività del registro unico perché ci sono tante norme pure il testo unico dico spesso delle imposte sui redditi che è dell'86 manca ancora di qualche decreto ma nessuno dice non pago più le tasse perché manca il decreto nel testo unico delle imposte sui redditi forse qualcuno ci ha pensato vedo che in sala c'è qualche promotore rispetto a questa idea però la stessa cosa vale anche nel registro unico nazionale del terzo settore l'operatività si valuterà in funzione di questo decreto che sta per uscire nel frattempo tutti gli enti sono invitati a valutare con attenzione i profili legati all'iscrizione e soprattutto le nuove opportunità contenute nella riforma io vi ringrazio e sicuramente con Vincenzo con tanti di voi ci sarà l'opportunità di proseguire questo bel percorso insieme di condivisione grazie a tutti grazie a lei grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti